ma muore dove cazzo lo dovrei vedere il viaggio video tu te lo viste io non lo vedo ho intravisto la zanzara bastarda sono finite? negro aspetta è ok 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 Sono partito lo stesso Guarda che burraccio E il 160 lecca patate Cale, va bene, le lecca più di tutti Però sta dietro Minchia VR Power Style Ma la migliore è lei, dai, basta, inutile Zaino Lei cosa ci può dire della prova? Zaino? Zaino! Oh Dio, cosa ci hanno fatto? Zaino!